Allora vi faccio vedere quest'altro pacco dalla pasticceria di Dato che si trova ad Angri in provincia di Salerno. Vi faccio vedere che cosa mi ha inviato. Allora, innanzitutto abbiamo questi frolino al limone che è il biscotto dal sapore vero, saranno eccellenti e ottimi. Ovviamente sono un po' così per via della spedizione, poi abbiamo la fantastica colomba artigianale fatta proprio da loro e l'ho scelta al pistacchio. Hanno al pistacchio, al limone, frutti di bosco, pesca e bicocca, quella classica ma anche quella fondente. Davvero eccezionale, non vedo l'ora di mangiarla, io adoro il pistacchio. Potete contattarli, la pasticceria di Dato vi lascio qui sotto e potete ordinare la vostra colomba in tempo per Pasqua. Credo che dobbiamo stare a casa, mangeremo le colomba artigianali. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma com'è buono questo panettone, è il panettone più buono e bello di Angri Sono nella pasticceria di Dato, la più buona pasticceria di Angri, bravi Grazie per la visione